Ministro Gelmini, qual è il punto in merito alla situazione del panorama scolastico nazionale, con particolare riferimento al quadro della formazione professionale? Guardi, è nota la scelta che il Governo ha compiuto fin dall'inizio del mandato di una rivisitazione della spesa e dell'investimento in istruzione. Mi piacerebbe poter dire che tutte le scuole italiane siano così belle, però così non è. Sappiamo che dobbiamo contemperare esigenze diverse, l'organico da un lato, ma soprattutto il servizio, una buona qualità del servizio che significa edilizia scolastica sicura, laboratori tecnici, aggiornamento, quindi formazione anche per i docenti, stipendi migliori. Quindi parlare di taglio è molto riduttivo. La verità è che questo Governo ha messo mano in profondità al tema dell'istruzione, al tema della formazione, con riforme che avranno risultati ovviamente a medio termine, ma sono riforme coraggiose. Siamo partiti dalla scuola elementare con il ritorno al maestro unico di riferimento, il ritorno ai voti, alla serietà, al voto in condotta per combattere il bullismo, insomma un'impostazione che mette al centro la persona. Oggi ci occupiamo della riforma della scuola superiore, che non è un'assoluta novità, novità, basti pensare che l'ultima riforma risale al 1923, quindi è frutto del lavoro anche di governi di colore politico diversi, ma il risultato è un rilancio dell'istruzione tecnica e della formazione professionale unitamente ad un ammodernamento del sistema dei licei. Qui siamo all'interno di una scuola che fa della formazione professionale, realizzata grazie alla collaborazione con la fondazione Oliver Twist, ma anche con l'impegno di Regione Lombardia. Sappiamo che ogni anno sono 70.000 i profili tecnici richiesti dalle imprese che non trovano riscontro nei profili che invece escono dalla scuola superiore. Occorre fare in modo di far incontrare la domanda con l'offerta. Per fare questo dobbiamo riqualificare l'istruzione tecnica, riqualificare la formazione professionale. Qui siamo a Como, è chiaro che l'indirizzo non può che essere tessile, ma non solo, legato anche al design, all'artigianato. Insomma, mi pare che ci siano veramente le condizioni per affermare la paridignità fra il sistema dell'istruzione tecnica e professionale e il sistema dei licei. Qual è il suo parere in merito alla vicenda del crocifisso vietato dalla Corte Europea per i diritti dell'uomo? Sì, noi abbiamo ritenuto la scelta, il pronunciamento della Corte di Strasburgo francamente incomprensibile e anche molto pericoloso perché rimanda ad una deriva laicista che non serve al Paese, non rafforza l'Unione Europea. Per questo abbiamo deciso di presentare ricorso contro un provvedimento che io trovo sia totalmente incomprensibile. Il crocifisso non è solo un simbolo religioso, ricordo che è anche un simbolo di unità, di pace e quindi rimanda a valori condivisi, a valori comuni. E penso che non offenda nessuno, non crei alcun tipo di problema, anche perché vorrei ricordare che nelle bandiere degli Stati Europei ci sono circa 7-8 Paesi che hanno nella bandiera il simbolo della croce. Su questo argomento è giusto sentire anche il parere degli studenti? Io più che aver fatto scegliere ai ragazzi avrei chiesto chi può essere contrario alla presenza del crocifisso più che dire chi è d'accordo. Vorrei capire se ci sono persone contrarie su cosa basano questa loro contrarietà. A me pare che la presenza del crocifisso sia un fatto importante, la scuola ha il compito di integrare, ma l'integrazione non significa abdicare le proprie radici, la propria identità, i propri valori. La presenza del crocifisso è importante e credo che, a parte casi isolati, non ho visto da parte della scuola alcun cambiamento di posizione e questo è un fatto sicuramente positivo. Sinta, a proposito di valori, l'emergenza educativa che questo pontefice richiama spesso, come è colto a livello ministeriale? Certo, noi ci siamo posti proprio questo tema e questa domanda, come rispondere all'emergenza educativa? Perché il Santo Padre ha avuto il pregio qualche anno fa di porre il tema in maniera forte e poi è uscito anche un rapporto sull'educazione da parte della Conferenza Episcopale Italiana che contiene, credo, messaggi e contributi importanti. Noi pensiamo che la risposta migliore sia nel puntare su un forte progetto educativo. Noi non possiamo parlare di tagli, di organici, di graduatorie e ridurre la scuola ad un fatto ragionieristico. La scuola esiste se esiste la fiducia e un progetto che si basi sull'educazione e che ponga al centro la persona. Noi dobbiamo mettere al centro della nostra scuola i ragazzi e il loro rapporto con gli insegnanti. Ecco perché il Paese ha il dovere di ridare valore, di ridare prestigio e autorevolezza alla classe degli insegnanti e allo stesso tempo ha anche il diritto di pretendere più impegno, più preparazione, perché sulla scuola non si scherza. Il futuro del nostro Paese dipende dalla qualità della nostra scuola. Tutti i Paesi europei, i Paesi competitivi, stanno facendo le riforme, si stanno interrogando su come migliorare il sistema della scuola e dell'università. Non è solo un problema di risorse, è un problema di risorse umane prima che economiche e soprattutto credo che sia giunto il momento di avere il coraggio di superare alcuni nodi gordiani. Penso al tema del reclutamento, penso al tema della carriera. È possibile che il nostro Paese, insieme alla Grecia, sia l'unico a non prevedere la carriera per gli insegnanti, ma un avanzamento solo per anzianità. Io penso che l'avanzamento debba avvenire in base al merito, ai risultati raggiunti, alla qualità della didattica, non solo al trascorrere del tempo. Quindi noi dobbiamo occuparci di questo, degli scatti premiari, degli scatti premiali, del reclutamento, anche dell'edilizia scolastica, con la Regione Lombardia, con le altre regioni. Stiamo lavorando per un aggiornamento dell'anagrafe sull'edilizia, per spendere al meglio quel miliardo di euro che abbiamo a disposizione su questo tema e anche per favorire una collaborazione con l'impresa. Si parla tanto di privatizzazione, io voglio rassicurare tutti dicendo che questo governo non ha alcuna intenzione di privatizzare la scuola, ma non deve essere visto come un atto eversivo la presenza o la partecipazione di un imprenditore alla scuola. Al contrario, se le imprese, il settore produttivo partecipano anche alla definizione dell'offerta formativa, significa mettere poi i ragazzi nelle condizioni di ritrovare occupazione. Non a caso con il Ministro Sacconi abbiamo steso un piano di integrazione scuola-lavoro che vuole accorciare i tempi della transizione, vuole rilanciare la formazione professionale, gli istituti tecnici, ma anche rivedere le scuole di dottorato, insomma fare in modo che ci sia un'apertura da parte della scuola e dell'università al mondo del lavoro. Diversamente rischiamo di sfornare tanti precari, tanti disoccupati e di non dare certezza ai giovani. Si discute tanto di precariato, ma forse se ci fossero meno scuole, meno corsi di laurea in scienza delle comunicazioni, più ingegneri, più tecnici, forse i ragazzi avrebbero maggiori possibilità di trovare un lavoro e quindi di programmare il loro percorso professionale.